oggi sono qui in veste di oratore nonché dottore consigliante terapie a base di pezzi di carne di proprietà maschile in poche parole parleremo di pene profonde no vabbè facciamo i seri dai mi riferisco a una tale signora signorina insomma mica una sbarbata mica una capodoglia comunque qualunque una semplicemente famosa non riesco a trovare il termine no avete capito ecco questa simpaticissima signora o signorina che voglia si dir si voglia si è permessa di dire alcune simpatiche frasi sul sottoscritto ora io vorrei far capire una cosa se io parlo male tra virgolette di un certo dell'olio c'è un motivo semplicemente la penso così non ti sta bene ok lo comprendo però dei tuoi insulti della tua antipatia della tua incapacità e della tua ignoranza ti faccio osservare alla mia destra e altrettanto alla mia sinistra la vastità del che you know i u i Grazie